E adesso amici di Mattino Lombardia, io prima di tutto vorrei dare il benvenuto a questa principessa Daenerys, una gatta stupenda e ovviamente agli amici che sono venuti a trovarci in studio che è Francesco Cinque, buongiorno, con il quale adesso faremo una chiacchierata perché c'è un cat show a Milano a Nuregro per la precisione, poi è arrivato anche Alessandro Caggiati che insomma gestisce un po' questa meraviglia. Intanto che tipo di micio è? Allora abbiamo un sacro di Birmania, lei si chiama Daenerys, ha cinque anni, questo è un sacro di Birmania, appunto un gatto a pelo semilungo, la cui caratteristica principale come tu puoi ben vedere è quella di avere chiaramente gli occhi blu 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 e vuole venire da me, vuole venire da te, mi sa che tra un po' arriva. Perché sa che io li amo moltissimo, io ho una micia bianca e rossa che è la fine del mondo e se viene mi fa piacere. Se muovi un po' qualcosa mi sa che arriva subito. Con la penna, facciamo così con la penna. Ecco, è molto a proprio agio lei. Sì, lei è una gatta pluriplemiata ed è una gatta che è stata abituata fin da piccola ad andare in mostra, quindi loro non hanno le difficoltà che può avere un gatto non abituato. Certo, quindi lei sa che non succede niente, che non ha stress diciamo. Poi questo è anche uno dei lavori di selezione che fa l'allevatore, nel senso che noi non guardiamo solo l'aspetto estetico ma guardiamo anche la salute e il carattere. allevatori come Alessandro dedicano nelle prime settimane di vita tanto tempo ad abituare i gatti agli stimoli esterni. Ciò li rende più easy going, più tranquilli, più affettuosi. Come vedi lei si è sbracata completamente. Sì, lei è tranquillissima, proprio in un ambiente che non è il suo. sembra ci sia sempre vissuta. Questo vale anche per i mici che si vedono nelle pubblicità, nei film. Pensa che lì addirittura si fa un lavoro differente un po' come i cani, ci sono alcuni gatti che vengono proprio educati a fare dei movimenti. Alla recitazione. Riescono, un po' in maniera più blanda rispetto al cane, però riescono tranquillamente anche loro. Ma vabbè, è incredibile, come le persone hanno varie capacità. Esatto, io ne ho una dei miei che faccio così sul petto e lei salta. Sta andando ovunque. Adesso è inquadrata la coda. E questo è l'atteggiamento che loro hanno anche in mostra, perché poi so che ci sono tante persone che pensano che il gatto in mostra sia stressato, ma come vedi, se sono così abituati, per loro è un momento di scoperta. Vuoi scendere? Ha degli occhi stupendi. Esatto. Una passeggiata sul computer. Il computer è un altro passatempo. Vabbè, anche tu sarai abituato a casa ad avere il gatto sempre sul computer, no? Sì, 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 sempre appiccicato, sempre, che non vuole che tu legga, perché se no ti distrai dal fare le coccole, sono animali meravigliosi. Allora, c'è il Milano Cats Show al Parco Esposizioni di Novegro, no? Esatto. Ecco, diamo anche delle date, il sito, tutto quanto. Perfetto. Allora, noi saremo a Novegro, sabato 2 e domenica 3 marzo, con apertura al pubblico dalle 10 alle 18.30. Tutte le informazioni le potete trovare su milanocatshow.com oppure direttamente sul sito del Parco Esposizioni di Novegro. Avremo circa 250 gatti al giorno, quindi sono tanti. Per la nostra associazione manchiamo da Novegro da quasi dieci anni, quindi ci fa molto piacere ritornare a Milano, anche perché non so se tu sai che Milano è la città italiana con maggior numero di gatti. Davvero? Forse è perché è la città con tanti singoli, quindi il gatto quando torni a casa. Potrebbe essere. Secondo me è questa la spiegazione che ci viene. Potrebbe essere. Allora, c'è una stima che in Italia ci sono circa 10 milioni di gatti, quindi potrebbero essere addirittura più dei cani e Milano appunto è una città in cui il gatto pullula. Il single, come hai detto tu, oppure magari anche lo stile di vita del milanese, il gatto con la sua autonomia è un po' più semplice. Esatto, perché poi non si torna a casa magari a mangiare. Esatto, puoi andare a fare l'aperitivo, il gatto non soffre, capito? Sì, sì, dipende dallo stile di vita, pochi spazi esterni. Esatto, pochi spazi esterni. Chiaramente noi siamo abituati a dei appartamenti di dimensioni forse contenute rispetto ad altre realtà, quindi il gatto si abitua molto tranquillamente agli gatti. spazi. Poi tu lo sai, il gatto si modula sul proprietario, quindi prende le abitudini e gli orari del proprietario, tranne la mattina quando devono mangiare. Vuole esplorare tutto, vuole fare la radio anche lei. No, l'abbiamo detto. cinque anni. Lei è un po' principessa, quindi ci sta che faccia così. È molto principessa. Quindi avremo un sacco di bellissimi mici e cosa faranno in questi due giorni? Avremo, ti ho detto, 250 gatti, oltre 20 razze differenti, quindi andremo dal sacro di Birmania che è qui, al persiano a cui siamo abituati, i mencuni, i gatti grandi che pesano anche 10 chili. Questo in foto è un self-kill cracks, quindi un gatto che ha il pelo arricciato, avremo blu di Russia, bissini, qualsiasi tipo di razza. Le nostre mostre non sono mostre di lavoro o di agilità come succede per i cani, perché chiaramente i gatti hanno un'altra vita. I gatti saranno esposti nelle loro cuccette, con la loro cuccia, la loro scaldino, la loro copertina e poi faranno un concorso di bellezza. Avremo sette giudici internazionali e loro li valuteranno durante la mattinata e poi nel pomeriggio premieremo i gatti più belli. Ci sarà la fase finale. Ecco, la cosa che mi piace molto è che poi c'è spazio anche per le associazioni di volontariato per i gatti, quindi diciamo che queste meraviglie poi aiutano i mici meno fortunati, questo è proprio importante. Perché chiaramente questi sono gatti di razza, gatti con pedigree, ma nelle nostre mostre sono sempre bene accetti, vengono premiati e vincono anche loro i gatti di casa, perché poi tante persone hanno il gatto di casa e il gatto di casa ha la stessa dignità di un gatto con pedigree e contestualmente come Associazione Nazionale Felina, quindi la nostra associazione di riferimento, ma anche Anfi Lombardia di cui noi facciamo parte, cerchiamo di aiutare le associazioni del territorio. A Novegro avremo, se riusciamo, sono ancora in attesa di risposta, il gattile di Milano, proprio sperando di poter trovare degli affidamenti a gatti meno fortunati. Ecco, perché poi questa è la cosa anche importante, se cercate, se volete adottare un gattino, questa è l'occasione giusta. Esatto, esatto, poi ciascuno è libero di scegliere, però c'è anche quella possibilità e poi anche per i gatti disabili, perché non si sa che ci sono... Scusa, io la mia gattina è cieca. Esatto, noi avremo un'associazione che si occupa di disabilità motorie, quindi i gatti che hanno le zampine posteriori paralizzate, quindi insegnano anche alle persone che quegli animali poi si ritarano e quindi riescono ad avere una vita normale, dando lo stesso affetto di un gatto senza disabilità. Sì, sì, assolutamente, questo confermo, perché la mia ha avuto il glaucoma da piccolina. E quindi non vede. Va bene, ascoltiamo Britney Spears e poi torniamo a parlare del 2-3 marzo al Parco Esposizioni di Novegro, c'è la Milano Cat Show e torneremo anche a parlare di Daenerys, che è la prima ospite di oggi. Britney Spears e torniamo a parlare della Milano Cat Show a Novegro, 2-3 marzo, con noi Daenerys, che si sta facendo tutta la sua passeggiata in studio, questa gatta meravigliosa e abbiamo con noi, anche per raccontarci tutto, Francesco Cinque, Alessandro Cagliati che ormai è pieno di peli, ma è bello, io quando sono in giro, mi ritrovo dei peli della mia gatta, è come averla vicino, quindi noi chiamiamo tanto questi animali, insomma. Ora ha preso a confidenza e vuole scendere. Fai quello che vuoi, sei l'ospite quest'oggi, e abbiamo già detto tante cose, appunto che questi gattini non si stressano assolutamente, sono abituati, come vedete, in studio, sembra casa sua, tranquilla, che c'è anche questa bellissima finalità di aiutare con la loro esposizione, i gattini meno fortunati, c'è la possibilità di adottare e cos'altro, dunque, diciamo anche bene gli orari, perché poi molti penso arriveranno con i bambini, quindi? 2-3 marzo, dalle 10 alle 18 e 30, Parco Esposizioni di Novegro, il padiglione C, il padiglione centrale, quello più grande, e appunto tutte le informazioni disponibili su milanocatshow.com o direttamente sul sito del portale di Milano, ma anche su Milano Today, basta digitare un attimino online, siamo un po' dovunque. Ecco, dicevi anche chi ha il gatto di casa, lo vuole portare, cioè come viene gestita in quella giornata? Deve scriverlo? Esatto, quindi noi al momento abbiamo già chiuso le iscrizioni, perché poi c'è tutto anche un tema sanitario che va rispettato, quindi io comunico all'ASL, l'elenco, le cose, quindi adesso è un po' tardi, però ci saranno anche dei gatti di casa, quindi gatti senza pedigree, i cui proprietari hanno piacere a portarli in mostra e spesso si divertono anche loro, perché poi ricevono delle premiazioni a parte, dei premi speciali, quindi la cosa è divertente. Certo, invece insomma, per una prossima edizione magari ne paghiamo prima, così esatto, bello, bello, questa cosa mi piace molto. Cos'altro possiamo dire che non è stato ancora detto? Vabbè, il parco di Novegro è facilmente raggiungibile, dà la tangenziale, è stracomodo, c'è parcheggio all'infinito, perché poi sono tutte cose che vanno raccontate. Parcheggi a Iosa, non c'è problema, sabato e domenica il traffico di Milano è ridotto, quindi si può arrivare tranquillamente, ci sarà anche street food siciliano, tanti dolci, cassatine, cannoli, perché non vuole essere solo una mostra di bellezza, per noi quelle giornate sono una festa, noi siamo gattari, stiamo lì, mangiamo, c'è chi si porta il salame, chi mangia e chiaramente però per l'espositore il gatto è il promotore di tutta l'iniziativa, ma se riusciamo ad avere anche un po' di convivialità per passare una giornata fuori casa, poi è cattivo tempo, quindi magari uno fa una passeggiatina al chiuso. Ecco, perché diciamolo, è al chiuso, quindi se avete i bimbi da portare state tranquilli che se anche piove, anzi proprio se piove. Esatto, quindi tanti gatti da vedere, tanti stand con oggettistica legata al mondo del gatto e non solo, presentazioni delle razze, un po' di divertimento, ma soprattutto tante informazioni perché il nostro scopo è il cane molto più conosciuto del gatto, noi vogliamo che in un qualche modo le persone capiscano che anche dietro al gatto c'è un mondo molto bello, molto colorato, molto importante, ma c'è anche tanta formazione perché non vuol dire solo avere cuccioli, ma vuol dire anche sceglierli in salute, equilibrati, che si possono inserire tranquillamente nelle nuove famiglie. Esatto, poi appunto c'è tutta la parte, ci dicevi anche di gattini meno fortunati, meno fortunati, si esatto, che quindi speriamo trovino tutti famiglia, questa è una bellissima occasione. Io vi ringrazio anche per averci portato questa meraviglia, Daenerys, che adesso è da qualche parte sotto, se è imbucata, è sotto il bancone della regia, vieni amore, grazie a voi, ridai il sito, milanocatshow.com oppure direttamente sul sito del Parco Esposizioni di Novegro. Perfetto, grazie a Francesco Cinque, Alessandro Caggiati e a Daenerys chiaramente, che era il pezzo forte di questa prima chiacchierata. Buongiorno a tutti, mattino Lombardia.